In Bruxelles è tutto, Lina, voi. Inflazione dunque che non frena, specie sul carrello della spesa. Per questo mese invece bolletta del gas pressoché ferme, anche se il prezzo della materia prima è sceso. Ci spiega cosa è successo Francesca Maggini. Resta stabile il costo della bolletta del gas per i clienti del mercato tutelato. La riduzione per i consumi di maggio rispetto a quelli di aprile infatti è minima. Solo lo 0,2% in meno. Le quotazioni internazionali della materia prima sono scese ancora in modo significativo nell'ultimo mese. Meno 13,2% ma questo vantaggio è stato annullato in bolletta dall'aumento del 13% degli oneri dovuto alla cancellazione di alcuni sconti messi in campo l'anno scorso per aiutare le famiglie. Tariffe dunque pressoché ferme ma ancora pesanti per le tasche degli italiani. Negli ultimi 12 mesi la spesa per la famiglia Tipo è stata di 1.514 euro. Abbiamo un momento particolarmente positivo per i prezzi. La discesa è significativa, l'abbiamo visto. C'è tutto sommato un'estate che si apre all'insegna almeno per il gas della stabilità legato al fatto che gli stoccaggi sono significativamente pieni. È importante aver riportato il sistema al suo equilibrio e al sondamento naturale. Questo ne beneficeremo nella prospettiva del prossimo autunno. Grazie. Grazie.